ciao a tutti benvenuti nel mio canale velocetto tipo oggi guarderemo il finale di questa nostra fantastica avventura con un chart del ritardo costeggio al ponte fine della corsa rincuorriamo una strada la strada l'invento io viene gli occhi sulla strada puoi guidare tu peccato allaccia le cinture ok lo rincuorriamo con la nostra chip rubata non è facile guidarla devo essere sincero forse perché c'è erba fango e molti ostacoli non so neanche in che direzione andiamo ad andare in un po' la giugna del treno ci avviciniamo è una parola non facciamo un modo in arrivo vincere una strada già è difficile guardare ecco la sinistra infatti fuori che belli investirli adesso quest'altro diciamo che anche la nostra jeep sta per morire ok d'accordo treno un colpo solo violenza in strada ho preso pure buona fortuna pensi se la cavera hai capito dove hanno messo quella cassa gigante dobbiamo raggiungerla ok ragazzi dobbiamo andare alla locomotiva sicuramente non è facile come sempre in questo momento ecco già uno dei problemi vediamo come fa forse ho capito vediamo se ci riusciamo per forza qua ecco voglio fare questo prima non me l'ha fatto di qua guarda dove vai si proviamo dall'altro lato ok siamo arrivati di qua stessa cosa di qua immagino si ok questo wagon abbiamo attraverso mi dice che c'è un tesoro qui ok ok l'abbiamo preso siamo al prossimo wagon vediamo come fare ah c'è un artiglio ok proviamo a saltare anche se non ci sto riuscendo perfetto ok ok ecco quello che pensavo anche io altro vagone superato secondo me sarà sempre più difficile vai fuori oh merda abbiamo compagnia uomini di esame forse abbiamo ancora l'effetto sorpresa ok ok come immaginavo per la sorpresa per la sorpresa ok diciamo che qualcuno l'abbiamo ammazzato cacchio fa ah è proprio passata molto oltre la stessa no ancora no cacchio fa c'è una bella granada uuuh cacchiarola per un pelo direi cacchiarola 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 stiamo andando bene per il momento ragazzi questo finale per il momento come come vi sembra datemi un parere ragazzi e me mi sta mi sta causando un po' di brividi da prestazione molto concitato come altre modo cacchiarola pazzo cacchiarola cacchiarola pistola preso che mille ragazzi non puoi fermarsi no ce n'è un altro Sembra gentilmente una mitagliatrice o qualcosa di simile Non devo morire Che cavolo Ma forca miseria Oh Un solo colpo ho preso Non ho più niente però adesso ragazzi Mi serve miglioramente Dell'altro materiale Ok una granada C'è questa non c'è nient'altro Va bene accontentiamoci Inizioni perfetto Non vedo Fatela fuori Ma che cazzo miglia Non siamo ancora al sicuro Direi a finire Poteva farmi esplodere Non l'ha fatto Fate motociclette Da fa sì Quando non mira Dove dico io Ok andiamoci quest'anno Ho visto che ci dovremmo agganciare Vediamo se ci riusciamo Dove è quello con la mano? Ci Ci n'erano due E abbiamo fatto il colpo Beh molto bene Proviamo ad agganciarci Fatto Saltiamo bene Prendiamo il 5s C'è ancora la granada Fuoristrada in arrivo Hai buone notizie? No La metà Ci sono anche Gli uomini sulla G Oltre motociclisti Siamo sotto a sedia Alla grande ragazzi Uh L'abbiamo fatta esplodere Non ci riuscirete Questo lo dici tu Ah Quegli stronzi ci rallentano Muogliamoci più in fretta Parole sante Che volo Una bicicletta Ce n'è un altro sulla città Esplosò subito Avrò preso un punto Per preciso Che volo che fanno le moto Ok ci siamo appigliati Non so come Stavolta c'è il camion Ragazzi Diciamolo qua E' questo Perfetto Però ci sono quelli Sul camion Uno E due Perfetto Vediamo da dove ci spara Ma qua Non era molto Un attimo Un attimo Le ciclisti Ma c'è un altro Con la chip Ok ci siamo Uh Per quanto non sono caduto Ragazzi Ci sono Vado per proseguire Io non lo vedo Usiamo uno dei loro fuoristrada Mi piace Bell'idea Ah dobbiamo usare uno Ma sta esplodendo questo Beccatela E all'improvviso Le fiamme scompaiono Da queste chip Ok vediamo che dobbiamo fare Ci dobbiamo agganciare Io mi sono agganciato Non so se ho fatto bene o male Comunque Io mi sono agganciato E mentre Mi tengo sulla corda Ammazzo il motociclista Ok lo dice lei che è gangroso Perfetto mi è stato molto gangroso Ma Si è riempito qui di Maledetti scagnozzi So quasi morendo Salto Uh E per un bello ragazzo Questo lo dici tu E questo è quello che ti merita Perfetto L'idea che possiamo proseguire Cioè le granade Ancora non hanno stato neanche uno Comunque Perfetto Mi è rimasto un colpo con questa pistola Ma sta la comativa del cavolo Ma è questo treno Per me è troppo lungo Non credo che esistano beni così lunghi Quanti vagone abbiamo fatto? Ma che cavolo fa? Ma che cavolo fa? No Aspetta Hanno una mitragliatrice Vieni sulla terra No Quello c'è la mitragliatrice cacchio per un pello veramente saltiamo sulla cifra a questo punto visto che ce lo diceva è stata semplice ok, qualche idea su come salire sul camion se ti avvicini, usiamo i rampini stai scherzando? non scherzo mai ok, dobbiamo salire sul camion ma io vedo che la jeep sarebbe già saltata si fa questa manovra mi ricordo un vecchio uncharted con Drake, protagonista ok scassiamo tutto con questa migagliatrice e lo facciamo morire subito durante io c'è il livello d'ora uh, esplode il vagone ok, questo camion non reggerà non so ora anzi a fermare il treno che c'è questa stupida idea tua giusto cioè abbiamo fatto una bella esplosione il treno lo scambio della zanna con una bomba il dirottamento di un treno la Zaba ha pianificato tutto da mesi mettergli i bastoni tra le ruote sarà ancora più godurioso ma io speravo che si era fermato il treno dopo quella volta siamo quasi arrivate ok, dice che siamo quasi arrivate non si muove ti aiuto io questa è molto pesante vai, faccio io ok, tocca a te grazie dal vivo è molto più grande beh, è una bomba di uso militare vieni aiutami pesante pesante ok, questa era la bomba e andiamo alla locomotiva quella è grande la bomba che ve ne pare ragazzi quanto pare dobbiamo fermare la locomotiva ecco la locomotiva possiamo passare di qua forza è tutta scassata no no, no, no che c'è? l'hanno saldata merda saldata ehi dal tetto dal tetto e come facciamo? non vedo a chi gli vediamo ah, ok non pensarci troppo fallo e basta posso salire? non mi fa salire? ok, ce l'abbiamo forza commette che anche qui è saldato sì infatti è saldato allora anche questo è saldato ci sarà un altro modo se hai altre idee dille pure uno scambio cosa? più avanti c'è uno scambio potremmo attivarlo deviare il treno e guadagnare tempo d'accordo ci sto non puoi ci serve uno strappo ci serve uno strappo però io salto mamma mia non volete proprio lasciarci in pace? ok ragazzi siamo di nuovo a porto della jeep andiamo allo scambio adesso lo dobbiamo investire in qualche modo ne ho uno dietro si è ammazzato da me addosso ops un traverso di 180 gradi prendi il peso lui doverna schifoso ok ci siamo incrociati con Sam ragazzi ci siamo ritrovati ci siamo arrivati sul posto e quel posto per scambiare la direzione del treno dove è natin? di nuovo sul treno dobbiamo azionare lo scambio si 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 un attimo vai 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 non ci voleva vabbé non c'è problema li facciamo un po' un gioco quando sono morti da il treno si avvicina ok d'accordo torniamo allo scambio spingi andiamo andiamo non ce la facciamo non ce la facciamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta direi giusto giusto devo raggiungerlo aspetta aspetta devi proprio insomma mi sembra piuttosto in camp ok vai ok ok Sam rimane qui e noi inseriamo il treno di nuovo salpiamo speriamo che non ci sono più quegli scassa palle dei motociclisti anche se scommetto che ci saranno attenzione ok ecco il treno ma come diavolo faccio a salire non vedo nessun ponte o attraversamento oh merda non è un segnale questo c'è una rampa mi ci butto che volo ovviamente spiene ah si è svegliata vediamo come siamo messi oh cazzo il ponte merda sì ma noi come siamo messi fammelo vedere ci siamo in bilico sul vagona mamma mia attenzione la gipsa per cadere è anche troppo lentamente su qua oddio oh ah c'è la sub c'è la sub c'è anche Nadine qua perchè ci hai messo tanto? dovevo prendere un treno scontro finale eh sapete io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente ma voi due siete delle bastarde di prima categoria ci insulta credo proprio che mi divertirò oh oh lotta mani libera oh 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 si fuori allenamento a Zab oh che bel corpo volete rischiare la vita? ma per cosa? una città di bifolchi? cazzo sei insopportabile nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani la mia gente insorgerà di nuovo oh merda maledetto non saresti dovuta venire è stata solo una delusione stronza arrogante bello questo colpo bellissimo questa è la mia terra cosa avreste da guadagnare qui? oh conta più quello che hai da perdere tu la bomba? basterà comprarne un'altra brucerò la tua città ladra la tua gente mi imporrerà di salvarla no facciamola finita porca miseria ora sono da solo però ce la sto no perché resisti? bisogna capire quando accertare la sconfitta ritorna Nadine ritorna Nadine per te finisce no stavo quasi cadendo Nadine arriva cavolo uff mamma mia proprio ora queste cose no 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 se vabbè solo nelle immaginazioni queste cose tu non sai cos'è l'erogismo la mia guerra lo stabilizzerà il governo le pecore braveranno un nuovo bastone e tu vuoi nel mano ragazzi che finale questo momento prendi tipo Westing si è sentito piano lui vorrei ricordarti il ponte stazzite combatti facciamola finita caia maledetta non sto combattendo io ragazzi e il video avete rovinato tutto tutto quanto la mia impurazione sarebbe stata magnifica perché non morite una volta per tutte ok adesso ci sono io no aspetta tutto video ragazzi non lo spiego qui abbiamo finito credete ad aver vinto ne verranno altri e come il giovane re non avete niente in mano avevi proprio ragione il progresso richiede dei sacrifici prese dobbiamo andare piccola strozza arrogante via ok siamo sul ponte sto correndo io adesso ragazzi un salto preciso del ponte cavolo l1 c'è una botta sicuro me l'immaginavo esplode la bomba a sab se è vivo è un miracolo perché vogliono che sia vivo vorresti iniziare ad arrampicarti ti va dio santo dai salite vi aiuto mio dio basta carboidrati cara lo dicono tutti c'è anche semmo grazie come cavolo avete fatto a uscirne vive a dire il vero non me lo spiego neanche io a sab caduto col treno ah beh cos'è che capitano agli stronzi guardate che roba ciao ci siamo date da fare e come quindi qual è il futuro di nadine ross la shoreline il traffico d'armi basta con la shoreline davvero davvero a dirla tutta pensavo di dare un'altra chance a racket dei tesori perduti conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia senti ok mi spiace ma lavoro solo con i professionisti a dirla si mi spiace ma si mi spiace ma non si si mi spiace ma si mi spiace ma mi spiace ma Quanto pensate ci fronterà questa roba? Ma il Ministero della Cultura ci offrirà una generosa ricompensa. Giusto? Socia? Vomito? Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete seri? E finisce questo giochino. Le ridà perduta una... Sembrava una DLC femminile dell'altra serie. Ragazzi, ditemi cosa vi pare di questo finale. A me diciamo che è un po' piaciuto. Simpatico come finale, diverso dagli altri. Ragazzi, siamo alla fine di questa serie. Come al solito vi invito a commentare sia il gioco sia il finale. Soprattutto vi invito a lasciare un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Vi rimando alla prossima serie. Forse farò Assassin's Creed Odyssey, ma c'è un ultimo spezzone. Ah, la pizza che aveva promesso la bambina. Ci sono un collezionista privato. Ascoltatemi un secondo. Io capisco che il ribadire la nostra superiorità morale è una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremmo... Non rovinare il momento. Simpatico questa piccola scena. Comunque ragazzi, stavo dicendo che forse porterò... Cioè, quasi sicuramente comprerò Assassin's Creed Odyssey. Non vedo l'ora di giocarci, non so voi ragazzi. E chiudo qui con questa serie. Vi rimando ai miei prossimi video. Un saluto a tutti da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.